Allora siamo lo Spichisi, siamo con uno dei giurati di questo Saremo Award, il grandissimo perché io conosco bene avendo una certa età, Umbi Maggi che, dillo tu, storico bassista dei nomadi, con Dall'Oglio, con il grande Dall'Oglio, l'Augusto, i tempi di io vagabondo, una bella avventura. Cosa fai qua, oltre fai il giurato? Beh sì, sono con gli amici che hanno l'organizzazione del Saremo Music Award, collaboro con loro, qua sono giurato, produco, facciamo eventi televisivi, insomma sì, sto ancora giocando. Ti stai ancora divertendo? Sì, fortunatamente sì, tra un tortellino e l'altro, comunque va bene, finché si gioca va bene. E poi lo spirito è la base della vita? Sì, beh infatti parlavo prima con gli amici, se non c'è questa fiammella ancora accesa dentro non si riuscirebbe a fare questo, chiamiamolo mestiere, che comunque lo è. Non ti esibisci più? Ma ogni tanto con qualche amico, riprendo il basso, si fa una strimpellata, abbiamo fatto una riunione poco tempo fa con alcuni vecchi membri dei nomadi, con zucchero anche, con amici, io poi ho avuto gli studi di registrazione per tanti anni, per cui sono passati tanti artisti e ogni tanto ci si incrocia, ma una qualche strimpellata si fa. Insomma, strimpellata detto da te? No, ma sempre con lo spirito scherzoso, perché se c'è questo spirito vengono fuori le cose, quando diventano troppo serie si rischia. Infatti, stasera mi auguro che tu sappia giudicare bene, ho visto dei ragazzi veramente bravi nelle prove e poi li riprenderemo tutti. Sì, io non so, stasera, anche se qualche viso lo ho rivisto, perché ero all'Expo a esibirsi e comunque in generale il livello di questo concorso è alto, non so, stasera. Penso di sì, perché io ho visto un po' di prove a sé. Bene, bene. Sarà un lavoro difficile? Beh sì, comunque, benvenga che ci siano nuovi talentuosi. Complimenti anche per il locale, c'è uno spirito, un'atmosfera carina, interessante. Ti ringrazio tantissimo e magari ci risentiamo dopo. Bene, ciao, ciao, ciao. 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 Grazie.